RESTI A CENA CON NUI, MAMMA Che c'è? Il re e la regina soggiorneranno da noi. Cosa? Che Dio ci aiuti. Un pranzo reale, una parata e una cena? Ho bisogno di sedermi. Sono il Maggiordomo del re. Predisporremo l'arrivo a Downton delle loro maestà. Il Maggiordomo del re è inquietante. Toglietevi di mezzo. Sono lo chef delle loro maestà. Datemi l'olio d'oliva, presto! Dategli un bel manrovescio, presto! Dovete aiutarmi, Carson. Domattina sarò da voi, milady. Posso esservi utile? Sono la cameriera di Lady Beckson. Lo devo ammettere, mi piace. È una civetta intrigante. Quante stupidaggini dici! Mamma! Non c'è il benché minimo bisogno di litigare. Io non litigo. Semmai spiego. Noi non dovremo far niente? Niente. È inaccettabile che ci si umili in questo modo. Scusate! Siamo decisi a difendere l'onore di Downton. Dobbiamo contrattaccare. Questo è tradimento! Ho la netta sensazione che comprendiate cosa provo. Questi giorni mi hanno spinta a riflettere. Cosa stiamo facendo? È giusto andare avanti così? Downton Abbey è il cuore di questa comunità. Se continuo a battere, è grazie a voi. Sono arrivati. Signor Mulsley! Downton Abbey, dà il benvenuto alle vostre maestà. Oh, posso aiutarvi? Qualcuno dovrà farlo, Sire. O potrei non rialzarmi più. Leo! Sire. Sire. Grazie.